Siamo arrivati! L'arrivo si è filmato! Non ti agito! Salutare dom... E' più bene E' più santo? E' più santo? E' più santo Cattie anni ti spoi? 3 anni anni E' più santo E' più santo Ma non lo faccio? E' più elegante Non lo faccio E' più santo E' più santo vents Non lo faccio La chanstивать Ma non lo faccio se lo dài poti si mai calmeazza ori sforzi mai rei ommu azi dus la padure come sei a lì, non hai di formazione? poi dure lucrere ah lucrere? l'acqua non sa l'amne castighe bani mancare ah! ooo aah uops ah! ah! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.